Come scegliere il posto a bordo sul Pullman? Sempre dal sito iumpullman.it, clicchiamo su Scegli il tuo posto, dopo aver naturalmente compilato il modulo di prenotazione, e vediamo la piantina dedicata alla gita alla quale, ad esempio, vogliamo partecipare. Ipotizziamo di voler prenotare i posti 45 e 46. È tutto scritto qui, e quindi clicchiamo sulla piantina per accedere. Selezioniamo i posti da riservare, teniamo premuti CTRL per selezionare più posti, quindi 45, tengo premuto CTRL 46, tasto a destra del mouse, clicco su Commento, scrivo il nominativo, in questo caso Peri, per prenotare i due posti, clicco su Commenta, come ho appena fatto, per confermare. Abbiamo finito. Una volta revisionato dallo staff, i due posti diventeranno rossi. Grazie. Grazie.